Mister, ti chiedo subito quanto questa sconfitta è figlia della stanchezza e delle energie spese nello scontro diretto di tre giorni fa? Sicuramente tanto, tanto perché comunque si veniva da un periodo dove abbiamo fatto diversi risultati e è la prima sconfitta diciamo del 2023 e poi ovviamente il fatto di aver speso energie fisiche, mentali e nervose a Reggio questa sera si è visto perché comunque la squadra già dai primi minuti è sembrata un pochettino un po' sgonfia e poi è chiaro che il Cesena era un po' l'ultima spiaggia per riaprire un po' il campionato abbiamo trovato una squadra con più verve, con più cattiveria ed è chiaro che se trovi una squadra di pari valore che ha queste condizioni qua è chiaro che poi la partita si mette in difficoltà però io tengo a precisare il fatto che questa squadra qua, questo gruppo qua soprattutto in questo 2023 è la prima sconfitta dove diciamo può succedere una serata no però nelle ultime 13 partite abbiamo fatto 10 vittorie, 2 pareggi e questa è la prima sconfitta questo non ci deve minare le nostre certezze, anzi ci deve confermare il fatto che siamo lì in lotta per qualcosa di importante e ce la giocheremo già dalla prossima partita ho detto ai ragazzi di resettare immediatamente questa partita perché è un inciampo che ci sta però bisogna già guardare avanti perché ci sono ancora diverse partite per poter fare più punti mister lo hai appena detto questa è la prima sconfitta del 2023, la prima sconfitta del giorno di ritorno si torna in campo sabato una partita importante in casa fondamentale voltare subito pagina perché è tutto aperto sì sì ho detto prima bisogna resettare subito questa sconfitta come abbiamo e siamo stati bravi a resettare la vittoria di Reggio che poteva creare situazioni particolari però il gruppo oramai è consapevole delle proprie capacità è dispiaciuto di questa prestazione ma ripeto nell'arco di tre mesi ci sta di incappare in una partita ma l'importante è resettare e prepararci bene per la prossima perché ogni partita da qui alla fine del campionato sarà importantissima